Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Io sono Sonia e straparlo di diritto su questo canale. Oggi vorrei parlare con voi del maxiprocesso, ve l'avevo promesso ed ecco qui il video. Purtroppo però non vorrei parlare con voi del maxiprocesso vero e proprio, cosa significa di tutto quello che è accaduto durante il maxiprocesso, perché su quello ci farò un video magari a parte e lo sappiamo tutti cos'è accaduto durante il maxiprocesso, i confronti, le dichiarazioni di Bushetta, ci sono state fatti miliardi di film su questa vicenda. Io vorrei parlarvi della situazione prima del maxiprocesso, cioè tutto quello che ha portato poi al maxiprocesso, alle condanne, come si è arrivati, cosa è successo, agli omicidi, tutto quanto quello che è successo prima. Parlerò poi anche del maxiprocesso e di quello che è successo dopo, quindi delle conseguenze, del pentitismo, della trattativa Stato-Mafia in degli altri video. Ma torniamo a noi, quindi parliamo del fenomeno di Cosa Nostra della Mafia prima del maxiprocesso della sentenza del 92 che tutti conosciamo. Il fenomeno mafioso di Cosa Nostra non è un fenomeno solamente dell'ultimo secolo, ma comincia a manifestarsi già a partire dal XIX secolo, in una Sicilia che non aveva i mezzi per contrastare appunto l'avanzamento delle cosche. Infatti esisteva da molti più anni di quelli che magari pensiamo e la mafia all'inizio però non era combattuta a livello statale, fatta eccezione per alcune imprese isolate e basti pensare a Peppino Impastato, perché la lotta dello Stato contro Cosa Nostra comincia solamente negli anni Sessanta, quando comincia a diventare appunto evidente cos'era la mafia e quanto era importante nel territorio siciliano. In un'interrogazione del 1948 la mafia viene quasi denigrata. Il reale cambiamento quindi avverrà poi solamente nel 1986, data anno e date in cui comincerà il maxiprocesso. 10 febbraio 1986 viene indetto il maxiprocesso a Cosa Nostra e questo processo segna lo spartiacque tra il periodo in cui la mafia poteva agire quasi indisturbata e il momento in cui c'è appunto l'impegno effettivo istituzionale dello Stato di opporsi alla mafia. Il risultato del maxiprocesso sono delle conseguenze veramente importanti, basti pensare comunque al pentitismo, all'erga sullo stativo, al carcere duro, sono tutte vicende che sono figlie di quel periodo storico e del maxiprocesso. I cambiamenti a livello istituzionale però non sono avvenuti ad esempio negli anni 20 e negli anni 40, quando appunto c'era già la mafia, ma sono avvenuti solamente alla fine degli anni 80, quindi appunto con il maxiprocesso di cui parleremo in separata sede. Lo Stato infatti prima ignorava Cosa Nostra, infatti ad esempio una delle prime definizioni effettive di cos'era la mafia e di cos'è Cosa Nostra è del 1994 e quindi diciamo è un po' vincolata a quello che già si sapeva della mafia, quindi al maxiprocesso e quant'altro ed è una definizione data da Luciano Violante, che era un docente, un politico italiano ed è l'ex presidente della commissione antimafia e nel suo libro Non è la piovra descrive Cosa Nostra come la principale organizzazione mafiosa con circa 5.000 affiliati, ha un esteso radicamento sociale, un'organizzazione paramilitare, illimitate disponibilità finanziarie, controlla minuziosamente il territorio sul quale opera e la sua forza è determinata dal rapporto con la politica. La regola fondamentale è l'utilitarismo, la strategia è costituita dall'espansione illimitata, Cosa Nostra è uno Stato nello Stato e agisce come componente eversiva armata. Come vi dicevo prima, il fenomeno mafioso non è figlio degli anni Ottanta, non è neanche figlio degli anni Settanta, ma si radica molto di più nel territorio siciliano. Infatti una delle prime richieste di aiuto contro gli attacchi mafiosi è quella che è seguita alla strage di Portella della Ginestra del 1 maggio del 1947, in cui appunto 2.000 lavoratori si riunirono a Portella della Ginestra in Sicilia per protestare contro il latifondismo e festeggiare la vittoria del blocco del popolo nelle ultime elezioni per l'Assemblea regionale siciliana, dove la DC perse il 20% dei voti circa. Durante i festeggiamenti un gruppo di uomini sparò sulla folla, causando la morte di 11 persone, frenone più di 25. La strage effettivamente era stata eseguita dagli uomini di Salvatore Giuliano, che era un associato di Cosa Nostra. In seguito a questa strage si cominciò a parlare di più di mafia e si arrivò soprattutto a livello statale e si arrivò in Parlamento, in cui il 27 luglio del 1948 il deputato Berti, attraverso un'interpellanza, chiese al governo di ideare una politica da adottare per porre fine a queste violenze di stampo mafioso. L'ordinanza però, l'interpellanza di Berti, non ebbe risposta e un anno dopo Mario Scelba, che all'epoca era ministro dell'interno, durante un celebre discorso in Parlamento affermò «Si parla della mafia condita in tutte le salse, ma, onorevoli senatori, mi pare che si esageri in questo». A dimostrazione quindi di come Cosa Nostra all'epoca non era considerata, veniva considerata come uno scherzo, non veniva considerata come quel movimento che in realtà era effettivamente. Nel 1961 si torna però a parlare di mafia e l'iniziativa viene peresa da Ferruccio Parri, che presentò un disegno di legge per l'istituzione di una commissione di inchiesta che doveva affrontare la questione della sicurezza pubblica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, dove è stato arrestato anche Matteo Messina Denaro, e indagare quindi tra i legami che c'erano tra la criminalità organizzata del periodo, quindi Cosa Nostra, e le attività da loro finanziate e gli ambiti politici. Nel disegno di legge presentato da Parri, il senatore Nemo Cristiano Zotta, rispose con queste tre parole. Inutile, antigiuridica e non idonea. La definì veramente male. La mafia non era considerato un problema. Il 30 marzo del 1962 la Regione Sicilia, l'Assemblea regionale siciliana, approvò una mozione che chiedeva al Parlamento l'istituzione di questa commissione di inchiesta parlamentare, che alla fine venne approvata il 12 dicembre del 1962 dalla Camera, in prima battuta. La prima commissione si insediò il 14 febbraio del 1963, e da allora, dal 1963 in poi, fu sempre presente una commissione di inchiesta parlamentare che aveva il compito di presentare una relazione annuale circa le indagini svolte sul fenomeno mafioso. Le indagini furono sempre molto approssimative, perlomeno all'inizio. Infatti all'inizio descrivevano la mafia come un'associazione che tentava di riempire un vuoto di potere lasciato dallo Stato, come la relazione pubblicata nel 1976, in cui appunto Luigi Carraro, che era il presidente della commissione democristiano, si riferì concludendo che il fenomeno mafioso era limitato e da non sopravvalutare. Assurdo. Invece è successo davvero. Nonostante quindi l'istituzione di questa commissione su queste vicende mafiose, la lotta alla mafia ancora non partiva a livello statale, era riservata sempre alle azioni dei singoli cittadini, e quindi non aveva cancellato questo pregiudizio che la mafia era, diciamo, una loggia massonica, che si era particolarmente violenta, ma non era nulla di preoccupante. La percezione del fenomeno mafioso cominciò a cambiare con l'ingresso in politica a Montecitorio dell'onorevole Piola Torre, che era un parlamentare siciliano che era comunque cresciuto in una frazione di Palermo. Lui era estremamente esperto della questione mafiosa perché aveva assistito in prima persona alle elezioni di espropriazione delle terre dei contadini siciliani da parte delle cosche e decise di unirsi al movimento di occupazione delle terre da parte dei contadini nel 1949 e divenne membro del Consiglio federale del Partito Comunista e lanciò appunto lo slogan che ricorderete tutti, o comunque chi conosce questo onorevole, il nome di Piola Torre, la terra a tutti. Torniamo comunque a Piola Torre che fa il suo ingresso nella Camera dei Deputati all'inizio degli anni 70. non era stata ancora approvata nessuna legge contro la mafia, quindi i boss di Cosa Nostra venivano processati con l'accusa di associazione a delinquere, non associazione a delinquere di stampo mafioso prevista dall'articolo 416 bis. Quindi la legge prima, l'articolo 416, era carente approssimativo e quindi venivano rilasciati dopo una breve condanna perché comunque le forze di polizia erano quelle che erano, erano insufficienti che inoltre la mafia non era considerata un pericolo effettivo, non veniva considerata qualcosa di molto grave. La Torre si occupò di molte cose quando entrò in Parlamento, delle riforme agrarie e quant'altro, però da subito, dalla fine degli anni 70, cominciò a occuparsi di mafia e il 31 marzo del 1980 presenta un disegno di legge, il disegno Rognoni-La Torre che è diventato famosissimo in ambito giuridico e questo disegno di legge si intitolava Norme di prevenzione e repressione del fenomeno delle mafie e costituzione di una commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo. Quindi alla Torre dobbiamo il primo atto normativo e effettivo contro la mafia. Infatti con questo decreto, con questa legge, si è capito effettivamente anche nelle alte sfere, nelle istituzioni, che cosa nostra esisteva e sopravviveva grazie agli ingenti traffici finanziari e quindi il disegno di legge poi prevedeva l'espropriazione dei beni agli imputati accusati di essere appartenenti ad una cosca mafiosa e quindi questa legge venne avanzata e commentata in Parlamento ma non venne subito accettata. Infatti poi nell'81 lui rientrò in Sicilia e ricoprì l'incarico di segretario generale del Partito Comunista e si batte in quegli anni per la rimozione dei missili NATO nei pressi di Ragusa. La mattina del 30 aprile del 1982 Pio La Torre venne assassinato assieme al compagno di partito Rosario Di Salvo mentre si dirigevano appunto alla sede del Partito Comunista Italiano di Palermo. Le indagini e le successive sentenze sul caso individuarono nella lotta alla mafia di Pio La Torre la ragione decisiva della condanna in morte che era stata impartita proprio da Cosa Nostra. Il 12 gennaio del 2007 la Corte d'Assise di Palermo ha pubblicato l'ultima sentenza che ha permesso di indicare i mandanti dell'omicidio che furono appunto Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Antonio Geraci. I più alti vertici della commissione di Cosa Nostra Rina lo ricordiamo tutti, anche Bernardo Provenzano. Fu solo però dopo l'assassinio di Pio La Torre e quello avvenuto poi il 3 settembre del 1982 che è la morte di Carlo Alberto dalla Chiesa che il progetto La Torre venne effettivamente preso in considerazione dal Parlamento e venne convertito in legge, divenne legge. Quindi anche qui si è dovuto aspettare la morte di due personaggi molto importanti per la lotta alla mafia per vedere appunto la prima azione effettiva del governo, del Parlamento, delle istituzioni per lottare contro la mafia. Però perché la legge porta il nome Rognoni, La Torre se effettivamente è stata presentata solamente da Pio La Torre? perché si deve appunto il nome anche all'intervento dell'allora ministro di Grazia e Giustizia che nell'82 appunto portò alla stesura completa della legge alla promulgazione con due decreti legge, Virginio Rognoni. Quindi a cosa dobbiamo? Cosa dobbiamo alla legge Rognoni, La Torre? L'introduzione del reato di associazione mafiosa è il 416 bis che riconosce la mafia come una forza di intimidazione che si basa sul vincolo associativo e che fa della condizione di assoggettamento e di omertà la base su cui preme per commettere delitti per acquisire in modo appunto diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche di concessioni, di autorizzazioni. Quindi dobbiamo l'articolo grazie al quale riusciamo a combattere la mafia anche all'interno delle aule di tribunale. La legge Rognoni, La Torre quindi ci ha dato l'input per quello che poi sarebbe diventato effettivamente il maxiprocesso perché ha fatto sì che si realizzasse il primo pull antimafia ad opera di Rocco Chinnici che ne divenne il primo presidente appunto questo gruppo di magistrati che indaga, che lotta contro la mafia. Nonostante quindi la creazione di una commissione parlamentare apposita le verità processuali di quegli anni e di quelli che seguirono non sempre coincisero con i risultati delle indagini e delle varie commissioni. Quindi abbiamo introdotto uno dei personaggi più importanti della lotta alla mafia per quello che conosciamo noi, per quello che è stato poi il maxiprocesso, Chinnici, che appunto ha creato questo pull di magistrati per creare un coordinamento per chi doveva indagare su cosa nostra perché fino a quel momento chi appunto il giudice struttore che indagava non si rendeva conto magari all'inizio che c'era magari un altro giudice che indagava su un'altra minima parte della mafia in quel momento e quindi affidò Chinnici le indagini sull'omicidio dalla chiesa ad uno dei magistrati più giovani del pull antimafia ed era Giovanni Falcone che il 9 luglio del 1983 disse 14 mandati d'arresto, tra cui anche per Totorrine e Bernardo Provenzano che erano i capi di Cosa Nostra. Però Chinnici, come Piola Torre, non era molto ben accetto a Cosa Nostra perché si stava scagnando contro di loro e stava cercando di limitare la loro, appunto, libertà. Infatti venne ucciso il 23 luglio del 1983 davanti alla sua abitazione i mandanti di questo omicidio furono Nino e Innazio Salvo che erano degli importanti affiliati di Cosa Nostra A sostituire Chinnici arrivò Antonino Caponnetto che si avvalsa appunto della collaborazione di Falcone, di Borsellino e di Giuseppe Di Lello che erano già presenti nel pullo e che svolsero tutte le indagini su Cosa Nostra assistiti dal sostituto procuratore Giuseppe Ayala. I risultati delle indagini e le prove prodotte dal pullo antimafia furono decisive per il fatto che il 10 febbraio del 1986 potesse iniziare il maxiprocesso che si protrasse fino al 16 dicembre del 1987. La storica udienza di Cosa Nostra coinvolse 475 imputati per differenti capi d'accusa tra cui quello di associazione a delinquere di San Pomofioso introdotto da Piola Torre. Però come si è arrivati a questo inizio del processo? Dobbiamo ricordare e ringraziare soprattutto Falcone e Borsellino che passarono un'estate da quasi carcerati all'Asinara per scrivere tutte le pagine di rinvio a giudizio che arrivarono poi sui tavoli dei giudici che giudicarono poi tutte queste persone 475 imputati. Il maxiprocesso quindi è la prima vera risposta reale dello Stato italiano contro la mafia siciliana perché sono stati condannati per la prima volta delle persone in quanto membri di un'organizzazione mafiosa unitaria e di tipo verticistico e questo appunto grazie alla legge di Pio la Torre e quindi alla legge di Lorognoni la Torre. Siamo arrivati quindi all'inizio del maxiprocesso ma abbiamo saltato leggermente tutto quello che è accaduto effettivamente prima dell'inizio del maxiprocesso e la storia non è molto semplice perché durante le indagini fu minato da continui tentativi di annullamento. I legali di alcuni degli imputati infatti chiesero che l'udienza non si tenesse a Palermo ma che venisse trasferita altrove dove i magistrati sarebbero stati meno preparati sulla questione mafiosa. Inoltre verso la fine del 1986 i due legali che sono appunto gli avvocati ad esempio di Giovanni Battista e Vincenzo Pipitone dei fratelli Giuseppe Alfredo Bono chiesero di leggere completamente l'istanza integrale di tutti gli atti processuali. Queste eventualità nel codice di allora che non era il nostro attuale codice penale codice di procedura penale era prevista anche se non veniva usata da tantissimi anni e questa ipotetica lettura era stata richiesta perché richiedeva circa due anni di tempo con il rischio di portare appunto tutto il processo in un vicolo cieco da cui non sarebbe poi più uscito. A scongiurare questa eventualità di sostanzialmente far finire il processo in un nulla di fatto arrivò una legge che è la legge 29 del 1987 che comportava una sostituzione della lettura degli atti con una specifica indicazione degli stessi durante il processo. La cosa più difficile del maxiprocesso era anche trovare dei magistrati che erano disposti ad accettare l'incarico. Inizialmente furono solo quattro alla fine però ne furono scelti dal Tribunale di Palermo 16 che era un numero elevato per scongiurare il rischio di attentati o di rapimenti. Il presidente fu Alfonso Giordano e fu una decisione molto discussa dall'opinione pubblica di allora perché proveniva dalla giurisprudenza e dalla magistratura civile non da quella penale. Ma cosa comportò oltre appunto la sentenza questo processo con tutti questi imputati? Portò a dover costruire appunto un'aula di Tribunale che potesse accoglierli tutti che era appunto costruita accanto al carcere del Lucciardone di Palermo per evitare che uno spostamento più ampio potesse causare magari un fuggitivo o quant'altro. E oltre questo il processo a Cosa Nostra ebbe anche un notevole riscontro mediatico. C'erano comunque giornalisti da tutto il mondo. Il New York Times aprì numerosi articoli riferendosi al maxiprocesso che si stava svolgendo in Italia in quegli anni ma anche tantissimi altri paesi. Arriviamo al primo giorno del processo più grande della storia italiana. Gli imputati 475 che poi diventarono 468 fu infatti richiesta la separazione del processo per alcuni imputati e tra gli imputati spiccavano i nomi più importanti di Cosa Nostra. Pippo Calò, Michele Greco, Leo Luca Bagarella, Salvatore Rina, Bernardo Provenzano che erano latitanti. Ci furono tantissimi esponenti della mafia siciliana vera e propria. La custodia cautelare per questi e tutti gli altri imputati però era valida fino all'8 novembre del 1987 per cui il processo si sarebbe dovuto concludere entro quella data e quindi il presidente Giordano ordinò che il processo si sarebbe svolto ogni giorno tranne la domenica e qualche sabato. Il percorso dell'udienza è stato comunque molto calmo ed equilibrato salvi alcuni episodi molto degni di nota tra cui il confronto tra Buscetta e Pippo Calò che era terminato con la prevalza appunto di Buscetta. Ci sono comunque i video in rete. Gli altri collaboratori minori testimoniarono in aula e subirono offese e minacce da tutti gli imputati che erano presenti ma non furono influenzati e convalidarono comunque le proprie accuse. Gli ultimi mesi furono riservati alle richieste di condanna dei pubblici ministeri e alle difese degli avvocati prima che appunto il processo di primo grado terminasse. L'11 novembre del 1987 i membri della Corte d'Assise si ritirarono in Camera di Consiglio. C'erano appunto Alfonso Giordano e Pietro Grasso e i sei giudici popolari e la Camera di Consiglio è stata una delle più lunghe della vita della storia giudiziaria. 35 giorni in cui vissero isolati da qualsiasi contatto esterno. Quindi dopo 22 mesi di processo 349 sedute 475 accusati 8.000 pagine di verbale 1.314 interrogatori e 635 arringhe difensive con 900 testimoni e tantissimi avvocati il 16 dicembre del 1987 Alfonso Giordano lesse la sentenza che concludeva il maxiprocesso di primo grado. 346 condannati e 114 assolti e il gasso li è bene che si è sommati tutti quanti insieme e qui valgono ad un totale di 2665 anni di reclusione. Nonostante quindi la sentenza di primo grado è stata molto importante la mafia riponeva fiducia nei propri avvocati e nel fatto che si potesse ribaltare il tutto con il processo d'appello. Per presiedere il processo d'appello furono molti i volontari a contrario di quanto era accaduto con il primo grado in cui si rifiutarono quasi tutti e tra questi c'era Antonino Saetta un magistrato riconosciuto e noto al mondo giudiziario per il suo completo rigore morale. Il 25 settembre 1988 Cosa Nostra lo assassina lo uccide per impedirgli di presiedere il processo e l'incarico di Presidente della Corte d'Appello viene affidato a Vincenzo Palmegiano che indisse il processo d'appello il 22 febbraio del 1989 e si concluse il 10 dicembre del 1990. La sentenza della Corte d'Appello creò non poche delusioni per gli istruttori e per gran parte dei mass media. Le condanne venivano infatti trasformate completamente. Gli ergassoli dai 19 di vennero 12 gli anni di reclusione si ridussero notevolmente di vennero 1576 e vennero dichiarate 86 nuove assoluzioni. Queste modifiche furono giustificate dalla certezza dei giudici che gli attentati gli omicidi e i rapimenti sarebbero avvenuti a prescindere dalla gerarchia della cupola. Però c'era ancora un piccolo la speranza c'era ancora il processo in Corte di Cassazione che si occupava della validità dei processi. Il giudice Falcone però aveva espresso molte volte il proprio timore circa la figura di un giudice che c'era in Corte di Cassazione che era a Corrado Carnevale che era dato come preferito a livello di presidenza per quella vicenda nel momento in cui si sarebbe arrivata in Corte di Cassazione e a cui appunto affidati i processi di mafia questi concludevano nella maggior parte dei casi con l'annullamento delle condanne e per una sorta di giochi del destino di legge di interventi l'incarico non andò appunto a Corrado Carnevale ma venne affidato al magistrato Arnaldo Valente che andò a sostituire appunto la figura di Carnevale nel ruolo di presidente della Corte di Cassazione e la sentenza venne emessa il 30 gennaio 1992 che è la data che tutti ricordiamo le condanne furono tutte confermate e la maggior parte delle assoluzioni decise in appello vennero revocate quindi diciamo si torna più o meno alla sentenza di primo grado infatti la Corte di Cassazione ha reputato la gerarchia di Cosa Nostra molto più ristruttiva di quanto non avessero ritenuto nel processo d'appello e quindi c'è una conferma delle sentenze di primo grado e questa effettivamente rappresenta la prima vittoria e forse anche la più significativa contro Cosa Nostra che fino a quel momento pensava ed era convinta di riuscire a farla franca in un certo senso e alla fine non ci è riuscita ci vediamo con il prossimo video su appunto la narrazione di cosa è stato il maxiprocesso le conseguenze del maxiprocesso nel prossimo video